Nella sala della giunta del Palazzo Comunale di Arezzo la presentazione dell'Assemblea Nazionale di Anci che porterà ad Arezzo dal Capo dello Stato Mattarella, il Presidente del Consiglio Conte, quello della Camera Fico e sei ministri. Un'opportunità per Arezzo ma un'opportunità per tutta la Toscana. Arezzo è stata la prima tappa della roadmap delle città medie che si è svolta nei due anni scorsi e quindi questa presenza ad Arezzo dell'Assemblea Anci la consacra oggi come città fulcro di un percorso amministrativo e politico soprattutto che deve affrontare e risolvere il tema delle città medie. Ad ospitare la 36esima Assemblea Nazionale di Anci che sarà anche un'assemblea elettiva dal 19 al 21 di novembre sarà Arezzo Fiere e Congressi. Nella giornata di apertura, quella del 19 novembre, è previsto l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella seconda giornata che sarà conclusa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte arriveranno i ministri Boccia per gli affari regionali e le autonomie e Costa, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ad Arezzo anche Paola De Micheli, ministro delle infrastrutture, Fabiana Dadoni, ministro per la pubblica amministrazione e Roberto Gualtieri, ministro dell'economia e delle finanze. Non c'è differenza politica o di luogo. Nel momento in cui un cittadino ti chiede di riparare una strada, una fermata dell'autobus o un impianto sportivo in più noi dobbiamo strutturarci affinché una burocrazia soffocante, che è veramente complicata era il titolo di un'intervista del nostro attuale Presidente Nazionale De Caro a un noto quotidiano nazionale, diceva i comuni stanno affogando in un mare di legge e l'altro altro le risorse, perché è vero che da qualche anno si è fermata l'emorragia dei tagli agli enti locali ma è anche vero che quei tagli poi degli anni precedenti non sono stati rimpinguati se non per esempio ogni bando periferie che speriamo diventi una buona abitudine di tutti i governi insomma, quindi le richieste a fare sono tante. Tra gli oltre 1100 amministratori pubblici accreditati c'è anche il nome di Virginia Raggi chiuderà nella giornata conclusiva il Presidente della Camera Roberto Fico. Comunque abbiamo già fatto delle riunioni in prefettura, ne faremo un'ultima lunedì e poi in queste sedi sono state già prese le misure che sono proprietiche appunto per l'arrivo delle personalità che ci saranno come ho detto il Presidente della Repubblica, piuttosto che il Presidente del Consiglio, della Camera insomma anche tutti i sindaci delle varie città quindi diciamo che siamo abbastanza tranquilli sulla riuscita da questo punto di vista della sicurezza delle persone ma anche della città poi alla fine.